Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere un nuovo album dei Cacciatori Panini 2021-2022 anteprima, ovvero l'anteprima del nuovo album che uscirà a dicembre. Il pack contiene appunto un album più 5 bustine, a soli 2,50€, un prezzo davvero ottimo direi. Questo è il retro e qui ci sono le 5 bustine. In più ho preso anche questo bellissimo box che contiene 36 bustine e niente, oggi aprirò ben 5 bustine e in più le 5 bustine all'interno, quindi in tutto 10 pacchetti. Ecco qui, questi sono i pacchetti e questo è il box, piccolino ma molto carino. Ora andiamo ad aprire. Allora, ecco qui, abbiamo l'album e le 5 bustine che le prenderemo tra poco. Questo è l'album, ragazzi. Ora lo andremo a vedere all'interno. Qui abbiamo il calcio d'inizio, ovvero l'introduzione, con tutte le date chiave della stagione, i turni fra settimanali, le soste, le finali UEFA National League, la Serie A Team, la Coppa Italia, il pallone e l'indice. Passiamo alle squadre, Atalanta-Bologna. Praticamente ogni squadra ha 4 figurine, quindi 4 calciatori, i più forti, i capitani. Cagliari-Empoli. Ora abbiamo una pagina dedicata a tutti i portieri. Fiorentina-Genoa. Elas-Verona-Inter. La parte dedicata ai difensori. Juventus-Lazio. Milan-Napoli. Pagina dedicata ai centrocampisti. Roma-Salernitano. Santoria-Sassuolo. E la pagina dedicata agli attaccanti. E infine abbiamo Spezia-Torino. E Urinese-Venezia. Tutta la stagione di quest'anno. Non più niente. L'album si è concluso così. Davvero carino, direi. Ora lo poggiamo qui e andiamo a vedere queste belle bustine che sono all'interno. Eccole qui, ragazzi. Ci andiamo ad aprire queste e in più quelle del box. Bene, andiamo col primo pacchetto. Allora, eccolo qui. Il pacchetto si presenta così, con questa bella scritta in giallo e in nero anteprima. E in più tutto il resto è di blu. Le figurine sono molto più piccole rispetto a quelle di ogni anno, però la dimensione della bustina è sempre la stessa. Andiamo col primo pacchetto e vediamo cosa ci troviamo. Come primi quattro giocatori. Allora, abbiamo un numero che è 27. Primo giocatore, Ciro Immobile! Che colpaccio! Andiamo subito con Ciro Immobile, ragazzi. Kulusevski, questa è la pagina dedicata, credo, ai difensori. Giulio Maggiore della Spezia e Cristiano Biraghi della Fiorentina. Bene. Passiamo al secondo pacchetto. Abbiamo Martin Derun, un altro capitano, Ivan Illich dell'Ellas, poi abbiamo Norbert Gionber della Salernitana, e in più abbiamo Dusan Vlaovic della Fiorentina. Passiamo al terzo pacchetto. Pacchetto, scusate. Allora, qui abbiamo sono un po' piccicose queste bustine, nel senso è difficile aprirle. Ok. Abbiamo Bonifazi del Bologna, Goron Pandev del Genoa, Piaka del Torino e ancora Vlaovic, ovvero il primo doppione. Andiamo al penultimo pacchetto e andiamo a trovare Emanuel Ghiassi della Spezia, Gosens dell'Atalanta, Montibò dell'Ellas e Simi della Salernitana. Ultimo pacchetto e andiamo a vedere cosa ci troveremo su questo starter pack che mi sono piaciute davvero molto queste bustine. che ho trovato anche all'interno del calciatore molto interessanti come primo colpo immobile. Poi Melinkovic Savic Pellegrini della Roma Traore del Sassuolo e in più abbiamo New Eatink dell'Udinese. Bene ragazzi, il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Ho fatto praticamente questo spacchettamento, queste 5 bustine, abbiamo visto l'album insieme, abbiamo trovato davvero davvero ma tante figurine come potete vedere. Niente, nel prossimo video aprirò 5 di queste bustine proprio le apriremo e niente, piano piano andremo a finirci anche questo box che durerà diverse parti. Io vi saluto qui ragazzi e ci vediamo. Ciao ciao! Ciao!